Che cosa porterà questo ruolo, in particolare partendo dall'auspicata riforma fiscale di cui ha parlato? Il Presidente di una Commissione parlamentare ha più che altro il ruolo di dirigere il traffico dei provvedimenti parlamentari che riguardano quel settore. Come ho più volte detto, come lei ha ricordato, io spero che in questi due anni e mezzo rimanenti di legislatura si possa soprattutto mettere in mano la riforma fiscale. Il nostro sistema fiscale sulle persone fisiche ha quasi mezzo secolo, è vecchio, è iniquo, funziona male, è complicato, ha una liquota marginale effettiva del 40% sui redditi molto bassi, che vuol dire che se io guadagno 1.500 euro al mese lordi, quindi non sono certo ricco, e decido di guadagnare 100 euro in più, 40 se ne vanno in tasca allo Stato. Quindi è un sistema che disincentiva alla crescita e al lavoro e io spero possiamo finalmente metterlo in soffitta per averne uno più semplice e che pesi meno su quelli che lavorano e che producono. Allora, queste sono dunque le prospettive, gli obiettivi che si pone, ma torniamo un po' a questa notte. Alle due e un quarto dunque l'elezione è avvenuta, un'elezione che ha avuto 26 voti a favore 18 contrari e che ha provocato, come abbiamo letto da più parti, qualche malumore nel Movimento 5 Stelle. Ecco, come vogliamo commentare questa cosa e quali sono i rapporti che si possono eventualmente ricucire o riavvicinare proprio con il Movimento 5 Stelle? Il margine che lei ha ricordato, 26-18, in realtà credo sia stato il più ampio fra tutti i presidenti eletti in questa tornata. Quindi diciamo, chi è venuto a votare credo mi abbia votato convintamente. Poi è vero che ci sono state tre, non certamente le dieci di cui parlano i giornali nazionali oggi, ma tre sostituzioni perché il Movimento 5 Stelle, così come tutti gli altri partiti, ha cercato di far rispettare gli accordi di maggioranza. Voi a Ferrara mi conoscete da tanto tempo, quando ero un ragazzino, conoscete il mio carattere, i miei pregi, se ne ho i miei tanti difetti. Quindi sapete benissimo che i motivi per cui sto antipatico li conoscete bene anche voi e diciamo al Movimento 5 Stelle ho sempre detto chiaramente quello che pensavo di alcune loro posizioni molto estreme e lo continuo a pensare. Quindi questo forse non mi ha provocato troppe simpatie tra di loro, però all'atto pratico mi hanno votato in 26 tutti contro i 18 che hanno preferito invece il presidente uscente. Io ovviamente sarò il presidente, anche se è una frase fatta, ma sono il presidente di tutta quella commissione, cercherò di contraddistinguere il mio operato per un focus esclusivo sui contenuti, che spero soprattutto quelli, ripeto, inerenti alla riforma fiscale, senza perdere, diciamo, disperdere energie in altro.